Floridi a 38enne, pregiudicato, disattende il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, arrestato. I carabinieri della tenenza di Floridi hanno arrestato un pregiudicato 38enne in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, vittima di reiterati maltrattamenti. L'uomo infatti, nei giorni scorsi, era stato arrestato perché trovato a casa dell'anziana madre, che si era vista costretta a richiedere l'intervento dei carabinieri di Solarino. Nonostante le prescrizioni dovute al divieto di avvicinamento alla persona offesa, il 38enne ha ripetutamente violato la misura e pertanto è stato segnalato all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento presso il carcere di Cavadonna.